Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto di due fall'audio. Il primo riguarda il confronto tra il collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi e il boss dissociato Giuseppe Pippo Calò. Il fall'audio del confronto è la registrazione dell'udienza del processo d'appello per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Si tratta del secondo appello dopo l'allunamento della Cassazione. L'udienza si è tenuta a Firenze il 24 gennaio del 2004. La registrazione si interrompe bruscamente, ma probabilmente il confronto si chiude quanto Cancemi finisce di parlare. Infatti il giudice aveva già detto che il confronto si sarebbe chiuso con le dichiarazioni di Cancemi. Per questo motivo Giuseppe Calò avrà un modo di rispondere alle ultime dichiarazioni e accuse fatte da Cancemi solo in un'udienza successiva. La risposta di Calò è il secondo file che ho inserito in questo video e riguarda la dichiarazione resa da Giuseppe Calò nell'udienza del processo d'appello per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio tenutesi a Catania il 24 gennaio del 2004. Mi raccomando se vi piace il mio canale YouTube iscrivetevi e attivate la campanella in questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace mettete un bel like e lasciatevi un commento in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il Fall Audio. In questo momento possiamo fare entrare il collaborante Cancemi. Ci colleghiamo con il sito dove si trova in questo momento Calò. In particolare siamo pronti. bene. E allora è stato ammesso il confronto tra lei e l'imputato Calò su una circostanza, sulla circostanza seguente e su questo solo si deve vertere il confronto, non oltre questo tema specifico. Le modalità di comunicazione delle decisioni, in che modo avvenivano la comunicazione delle decisioni relativa all'organizzazione criminale a casa nostra con i capi mantamento detenuti. In particolare la comunicazione relativa alle decisioni inerenti ai fatti omicidiari e gli stragi. Con quale modalità avveniva? Ora le preciso questo. Lei nel corso dei vari atti assunti nel corso dei processi e comunque anche ieri, lei ha affermato nel corso della sua dichiarazione che Calò era capo mandamento. Ed era membro della commissione provinciale fino al 1993. Anche lui l'ha ammesso, Presidente. Ora vediamo. Lei ha specificato che lo voleva informare relativo alla strage di Via D'Amelio tramite il cognato, se non ricordo male, Mattagliano. Gregorio. Eh? Mattagliano Gregorio. Gregorio. Mattagliano. Ma Reina disse, dice no, non ti preoccupare, ci penso io. Avrebbe provveduto qua. Questo ha lei dichiarato ieri e nel corso dei vari atti in cui è stato assunto. Ora vediamo invece Calò. Siamo collegati? Calò? Mi sente Calò? Sì, signor Presidente. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno. Signor Presidente, prima di iniziare il confronto volevo dire due parole. Io ho cercato e ho insistito per avere il confronto diretto con Cangemi di presenza perché le argomentazioni non sono uno o due. Dovevamo un po' chiarire alcune cose. La Corte era necessario guardarmi in faccia sia a me sia a Cangemi nel chiedere, nel domandare alcune cose a Cangemi. Purtroppo, veda, sono qui a distanza in videoconferenza e purtroppo cercherò di sforzarmi di fare questo confronto in modo che la Corte possa riconoscere le menzogne e le bugie che fino adesso ha detto il signor Cangemi su queste strage. Io posso iniziare? No, no, lei deve ascoltare. Signor Presidente, io quando la comunicazione giudiziaria di questo processo dall'inizio io non l'ho avuto mai. No, 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 mi deve ascoltare. Non l'avevo. Prima che inizio volevo... Ma queste allora sarebbero delle dichiarazioni spontanee che lei rende, poi questo le farà dopo. Per ora il tema è il confronto e su questo per ora il tema è il confronto. Se lei può arrendere altre dichiarazioni inerente al processo, libero di renderle. Va bene, signor Presidente. Allora posso iniziare? No, aspetti e mi ascolti bene. Riassumendo quello che è stato detto prima, la Corte ha già deciso. La Corte ha deciso nel seguente modo. Innanzitutto che il confronto, siccome non ha ritenuto la Corte indispensabile, come previsto dall'articolo 146 bis del codice procedura penale, che il confronto si svolga in maniera diretta, presenti le due, lei e il collaborante Cancemi, il confronto si svolgerà in videocollegamento. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che il confronto si svolgerà semplicemente su una esclusiva e determinata circostanza. La circostanza di cui è al numero uno dell'estanza ed è quella relativa alle modalità con cui avvenivano le comunicazioni delle decisioni prese dall'organizzazione Cosa Nostra con i capi mandamento detenuti. E solo è su questo che verte il confronto. Nessun'altra circostanza deve costituire oggetto di esame oggi. E allora, già lei ha sentito che io ho letto quelle che sono state le dichiarazioni rese dal Cancemi e sono state le dichiarazioni rese e ribadite sostanzialmente fino a ieri. Le dichiarazioni rese dal Cancemi sono state le seguenti. Le ripeto ancora una volta, vero sia, egli ha fermato. Mi ha sentito, non c'è bisogno che lo ripeto. E allora, invece lei, nel corso del processo Borsellino 3, lei con una dichiarazione resa il primo luglio del 99 e ritengo in altre dichiarazioni al corso del processo, ha affermato di essere stato arrestato nel 1985. È vero? Sì, sì. È affermato di non aver avuto più rapporti con nessuno, non aver avuto più collegamenti con nessuno dalla data del suo arresto, però sia dal 1985. Giusto? Certo. Benissimo. Questo lo confermo. Ed è su questo solo che verte l'interrogatorio, qua il confronto. Quindi non ne illudiamo questo tema, ne ampliamo questo tema perché la Corte non ve lo può consentire. E quindi, visto che c'è questo contrasto, quindi ora io mi rivolgo a lei Cancemi e le dico, vedo, Calò ha dichiarato in quel mondo, lei mi ha sentito, ha detto che dal primo luglio 1999, ha detto nel corso della dichiarazione di essere stato arrestato nel 1985 e di non avere avuto più rapporti con nessuno, né a Cosa Nostra, né a Cosa Nostra, ha escluso la possibilità di avere collegamenti con chiunque. Lei, ribadisca, invece ha affermato che fino al 1993 è stato il capo della... le risulta che fino al 1993 era capomandamento e membro della commissione e che poi in particolare, per quanto fu la strage di via D'Amelio, lei gli voleva comunicare la decisione di Rina e il regino gli disse no, guarda, ci penso io. Lei gliela voleva comunicare tramite il cognato Gregorio Mattagliano, dice no, gliela comunico io le disse a Regine, Rina, le conferma questa sua dichiarazione, pur sapendo che è in contrasto totale con quella che sta dichiarando però. Lo dica più forte che lo sento. Conferma questa sua dichiarazione. Calò ha sentito il collaborante con Gelo... Allora, signor Presidente, mi deve scusare, signor Presidente, se la ti trompo, ma iniziando quando lui dice sì, che conferma questa dichiarazione, io devo iniziare da principio, devo parlare della commissione, come è nata la commissione, quale regole era nella commissione. No, 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 assolutamente. Ma allora come... e come si fa io a dire che voi... scusi signor Presidente, io nella lettera che ho scritto... allora facciamo una cosa, mi faccio sentire questo. Io perché ho ammesso di aver fatto parte in un certo periodo, in Cosa Nostra, è nella commissione di un periodo da 79 all'81, perché dopo l'81 questa commissione non esiste più. Poi rimane... nasce... nasce una... nasce un... va bene, adesso non mi viene la parola. E allora su questo punto io vorrei chiarire qualcosa con Cangemi, perché Cangemi, essendo il mio sostituto, e vediamo un po' come avviene questa mia sostituzione, che cosa ha avuto, cosa mi ha mandato mai a dire in carcere sia con mio cognato e che cosa io gli ho mandato a dire a lui dal al carcere. Poi, se lui conosce la mia posizione giuridica, siccome essendo il mio sostituto... allora scusa, essendo il mio sostituto, deve conoscere la mia situazione giuridica. E su quel punto a me mi interessa che lui chiarisca qualcosa, perché poi voglio vedere se era giusto, se era possibile io poter decidere una strage in quel periodo, se era per me un danno sia processuale e sia morale. Perché sulla cosa nostra, signor Presidente, se noi parliamo di regole, queste regole sono tutt'altre le cose su sposa nostra. Non si parla, non è ammesso la strage, non è ammesso la rapina, non è ammesso l'estorsione, non è ammesso queste due persone. Ecco, se noi dobbiamo iniziare su questi punti, signor Presidente, perché ora hanno fatto capire che questa commissione fa commettere le stragi, commettere l'estorsione, commettere le sequestriche di persone. Se io non chiarisco queste cose con Cangeme, come si fa poi, come si fa a poter chiarire tutto sulle decisioni della commissione? Non è esteso a questo tema il confronto. Il confronto, ripeto, viene limitato semplicemente su quel punto. Lei sta replicando a quelle dichiarazioni del Cangeme dicendo che la commissione non aveva competenza a deliberare, addirittura non aveva più che competenza, non provvedeva a deliberare né stragi né sequestri di persone né reati che non facevano parte di quella che erano i fini, diremmo, istituzionali, organizzativi di Cosa Nostra. Non è così? Certo, signor Presidente. E io le voglio ricordare. Io le volevo ricordare. Signor Presidente, ma io come faccio questo confronto? Come può avvenire? Ma ripeto, è solo su questo. Presidente, però il confronto, mi scusi un attimino, Presidente, mi scusi un attimino, il confronto, dico, mi pare che debba avvenire tra le due parti attraverso il reggipere contestazioni, senza l'intervento, il filtro della Corte, dico, altrimenti l'altro istruttorio... No, 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 non è così, avvocato, mi dispiace. Mi sembra che il confronto sia tra le due parti, cioè... No, no, no. Non è una serie di domande per l'uno che sono dichiarazioni. Non domande, Presidente, ma è un confronto tra dichiarazioni, chiaramente, cioè una reciproca contestazione. Non era questo l'oggetto del mio intervento. Mi pare che lui ha sollecitato proprio il tema che è stato ammesso dalla Corte, cioè nel momento in cui è intervenuto Calò ha detto, noi dobbiamo parlare di come eventualmente il signor Cancemi e quali circostanze il signor Cancemi mi ha comunicato o io o quali circostanze ho comunicato al signor Cancemi nel periodo della mia detenzione. Mi pare che sia l'oggetto della, diciamo, ammesso del mio intervento. Sì, è già dichiarato, infatti... Però ancora non siamo entrati nel merito. No, ma già forse abbiamo finito il merito, avvocato. Il giudice, richiamato alle precedenti dichiarazioni ai soggetti delle quali deve svolgerci il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandole o che occorre alle reciproche contestazioni. E le reciproche contestazioni, Presidente. Ancora passiamo alla seconda fase, è questo solo momento, perché infatti è da più momenti che il Cancemi mi fa segnale che vuole parlare, ma io sto esaurendo ancora. Calò per ricondurlo nei termini del confronto. Quindi... Sì, Calò ha sollecitato... Posso chiedere a Cangemi... Ecco, Calò sta sollecitando... Presidente, mi scusi un attimo, Calò ha sollecitato la Corte a intervenire, in questo caso, visto che la coltre fa da filtro, con il collaboratore, per chiedergli quali fatti concreti il signor Cancemi ha trasmesso attraverso questo del cognato Mattagliano o altri canali al Calò, o quali fatti concreti il Calò avrebbe trasmesso al Cancemi che è suo sostituto. Questa mi pare la sollecitazione, che questo è l'oggetto del tema. Intanto, ripeto, in base a quello che sta dicendo, sta dicendo al direttore che la commissà non era manco competente a deliberare sulle stragi, motivo per cui già l'argomento è chiuso, perché in radice sta escludendo qualunque e sta negando qualunque cosa. Signor Presidente, qua Cangemi cosa ha detto? Mi scusi signor Presidente, Cangemi che cosa ha detto? Che Rina gli ha detto, adesso tu non ci pensai, ci pensai... Bravo, questo è il tema che dobbiamo trattare. Ha chiesto a Rina, attraverso il suo cognato avviso io di quello che deve decidere. Allora, Rina ha detto no, ci penso io. Ora, io voglio chiarire questo particolare, perché questa è una menzogna, questa è una bugia. Noi abbiamo... Signor Presidente, dopo queste stragi, io avevo... Allora, devo fare una direzione spontanea o devo parlare con Cangemi? Cangemi deve sapere, la sa, la mia posizione giuridica la sa. Io devo parlare con Cangemi per vedere se... Ma che danno mi ha fatto questo? Se è stato... Perché lui ha... Guarda, signor Presidente, lui era e aveva la possibilità di evitare questa strage. Lui aveva... Era in condizione di dire a Rina... Senta, signor Rina, veda che è calore. Ha un processo, si stanno facendo la cassazione. La prima volta è stata annullata, quella del treno 94. E lui ha conoscenza che io ero innocente di quel processo, signor Presidente. Perché la... A parte che lo diceva e criticava questa... Quest'imputazione che avevo io. E allora lui aveva dire, signor Rina, veda che lei... Questo non lo può fare, perché se lei fa queste cose... Calò, viene condannato lì... Così è successo, signor Presidente. Il primo cassolo che io ho preso è stato per la strage 904. Io sono in condizione, signor Presidente, di non poter chiedere a nessuno perdono di questi familiari che hanno avuto le vittime, i familiari come vittime. Cioè che... Né quella del treno, né quella di Borsellino, né quella del dottor Falcone. Se volessi non posso neanche chiedere perdono, perché sono innocente. E lui era in condizione di farlo. Ora, che si mi viene a dire? E se qualcuno a me mi mi mandava a dire nel carcere, ma tu sei... Sei d'accordo a fare questa cosa? Io gli avrei risposto, se non era Rina, o a chi mi avrebbe detto... Cercate... Lo dicono loro che è stato Rina a fare queste cose. Io sto dicendo se era veramente Rina, perché io sono in carcere e non lo so. Gli avrei detto... Sentite, o l'ho nata a chiudere al manecome e sul Rina, oppure lo vedo ammazzare, perché queste cose non si fanno. Perché Cosa Nostra non è nata per queste cose, signor Presidente. Io ho 72 anni. Mio padre faceva parte di Cosa Nostra, mio nonno faceva parte di Cosa Nostra, i bisogni facevano parte... Cioè, io sono, come dire, figlio di Cosa Nostra, senza dubbio. Ma io già dal 70 me ne volevo uscire. Ma dopo l'81, quando è successo questo contrasto fra Cosa Nostra, fra questa... Diciamo quella. Io, nell'81, la commissione è finita. Già che non c'era più quell'armonia in quei periodi, perché succedevano fatti e non si sapeva nessuna cosa. Ora io a Cangiemi le volevo chiedere se sa, se ha conoscenza, se l'uccisione del procuratore Scaglione nel 71 è stata decisa dalla commissione. Se sa se Capitano Russo è stato ucciso con il consenso della commissione. Se Rina, il presidente della provincia, è stato ucciso con il consenso della commissione. Se il giudice Costa è stato ucciso con il consenso della commissione. Se il Capitano Basile è stato ucciso con il consenso della commissione. Se ha un omicidio che lui si è accusato assieme a Cucuzza, che era un ufficiale della polizia, che si sono accusato di omicidi e se ne sa parlare, se è stata la commissione a decidere. Se io... E se... Purtroppo, signor Presidente, il confronto era questo. Io volevo risposte di Cangiemi. Se lui era a conoscenza di questo. Il confronto è anche questo, perché si sta svolgendo anche il comitato delle persone che fossero presenti. Per la legge, lei è presente qui. Ma qualche risposta me la deve dare. E io poi eventualmente tornerò a... Ora la risposta gliela daremo. Comunque, rimane sempre... Se lei mi priva... Scusi, Presidente, mi faccio conclusione. Se lei mi priva di questo... Lei non può sapere. Noi abbiamo maledetto in carcere, fino ad ora. Abbiamo maledetto chi ha deciso questo. Perché... Con questa... Responsabile anche Cangiemi. Perché Cangiemi, assieme a chi ha deciso queste stragi, ha fatto fare una legge speciale in Italia. Ha fatto mettere la pena di morte. Perché il 41 bis, signor Presidente, è la pena di morte. Chi non lo sa, è bene che lo sappi, la 41 è la pena di morte. È peggio della... Especialmente in questo governo. Sì, è la pena di morte, signor Presidente. Sì, è la pena di morte, signor Presidente. Lo dico io, perché non si può uscire... Sì, è peggio della pena di morte. È peggio della pena di morte. È peggio della pena di capitale, signor Presidente. Perché per tutta la vita uno sa che deve morire in carcere. Non solo che soffre tutta la vita, 30 anni, 20 anni, secondo l'età. Ma i familiari che vengono per 20 anni, per 15 anni a fare i colloqui una volta a mese, non hanno i soldi pure per pagare il viaggio e poi dietro un vetro. Cioè, ci hanno rovinato queste stragi. E ora sono capaci, sono stati capaci a venire a accusare persone... Io, per me, innocente. Gli altri, non. Io, per me, parlo di me. Perché per gli altri... Benissimo. Ora, lei questo l'ha servito sia per dichiarare la propria innocenza, sia per contestare quanto ha dichiarato il canceme, e sia anche come uno sfogo personale. A tutto questo, altrimenti si chiude e finisce un monologo suo. Lei ha chiesto tante volte il confronto. E finalmente che questo confronto si svolga. Ora vediamo proprio su questo che ha dichiarato lei, su queste affermazioni che ha reso lei. e, peraltro, ripeto, che sono una parte inerente proprio direttamente al confronto. L'altra parte, lei ha avuto modo di protestare ancora una volta alla sua innocenza, estremità e ai fatti. Ha affermato che la Commissione dal 1981 addirittura non esisteva. Ora, su queste sue affermazioni sentiamo quello che tendiamo ora. Presidente, dopo un attimo che ha parlato il Procuratore Generale. Prima che, appunto, prosegue il confronto e che inizierà la risposta del signor Cangeme. Io, Presidente, sono nell'avviso che bisogna dare spazio quanto più possibile agli imputati per potersi difendere e far presente tutti gli argomenti che intendono esporre. Tant'è che, ripeto, non mi ero posto al secondo punto del confronto che è stato chiesto dal difensore. Però ritengo che il confronto deve vertere, deve riguardare i fatti di quel processo. Il signor Colò ha fatto riferimento un po' a tutta la storia della mafia dal dopoguerra in poi. A iniziare dall'omicidio di Scaglione, del capitano Basine e di tante altre vittime della mafia. È chiaro che non si possono porre al signor Cangeme argomenti di questo tipo. Il confronto, ripeto, è quello su cui devono discutere e parlare i due protagonisti del confronto. Deve riguardare i fatti di questo processo, non fatti ormai, come dire, affidate alla storia più triste di tale. Grazie. D'accordo, infatti, il confronto si sta svolgendo e si deve svolgere solo su quella circostanza. Il Cangeme, ripeto, ha aggiunto, il calore, il botato calore, ha aggiunto a tutto questo una dichiarazione di proprio discolpa e uno spogo personale che, come imputato, si può considerare. Fatti omicidiari eccellenti che sono oggetto del primo punto ammesso dalla Corte, perché non si parla della strage di Capaccio. Dalla Corte significa semplicemente come avvengono le modalità di comunicazione tra l'imputato con i capi mandamento e detenuti. Sul punto, basta, avvocato, sul punto, una parte che si chiama imputato calore, ha detto dal 1981 la commissione è finita, dal 1985, da quando io sono arrestato, non ho avuto rapporto con nessuno. L'altra parte, invece, dice cose totalmente diverse, ora, ulteriormente, replica alle considerazioni che ha espresso il calore. Dopodiché il confronto è chiuso. Sì. Avanti. Grazie, Presidente. Mi scusi. Guardi, io... No, 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 ora deve parlare Cancime. No, no, no. Io sono felice sentire della bocca di Calò, perché questa è la prima volta che lo sto sentendo, che lui ha fatto parte della commissione, che io ero il suo sottocamo. Sono felice sentire queste parole, che lui fa questa ammissione. Poi, il signor Calò mi ha rimproverato che io poteva fermare a Rina per non fare la strage. E allora io rispondo questo al signor Calò. Cosa hai fatto tu, signor Calò, nel 1983, quando vi siete riuniti nella tenuta di Maggio Giuseppe, a Piano dell'Occhio a Palermo, e avete deciso la strage del dottor Chimnici? Cosa hai fatto tu che mi rimproveri che io dovevo fermare a Rina? Perché non lo fermava tu a Rina nell'83, che ci ho accompagnato io, con la macchina tua, con la Renault, quella col cambio così nel volante? Nell'83, che dici che non fai più parte dell'81 della commissione? Nell'83 perché non fermava a Rina e ci diceva, ma che stai facendo pazzo che tu dici che io lo dovevo far ammazzare? Io avevo questo potere di far ammazzare a Rina, ma vuoi dire queste cose tanto per dire? Io avevo il potere di far ammazzare a Rina, che tu a Rina lo conosci meglio delle tue tasche. Poi, perché non fermava a Rina quando abbiamo strangolato io e tu e altri figli di Buccetta, con le tue mani, l'hai strangolato e ti hai preso quello che somigliava di più a Buccetta nella faccia e l'hai strangolato? Perché non fermava a Rina e mi rimproveri che tu sei stato danneggiato moralmente del tuo processo? Perché non li pensava prima queste cose? Adesso viene a dire queste cose, vuoi apparire che sei un angioletto? Non lo deve dire che sei un angioletto, deve dire se stai ammettendo che faceva parte della Commissione, stai ammettendo che eri il tuo sotto capo. Perché non dice queste cose? Perché non lo fermava tu a Rina, che avete deciso in quella stalla che c'era l'animale, là nel piano dell'occhio, nella tenuta di Di Maggio Giuseppe, sotto Torrello? Sì. 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 L'imputato Calò vorrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee. No, ma ciò non lo dà. Puoi parlare con l'imputato Calò? Va bene, signor Presidente. Sindaca, dove è? Calò, buongiorno. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno, signor Presidente. Se il suo è un breve intervento, allora va bene, altrimenti lo spostiamo ad altra sede. Signor Presidente, io 5 minuti le faccio perdere, però poi quando sarai che riscono tutti i collaboratori. Noi non perdiamo niente, nel senso che mi ascolti, noi vogliamo la massima attenzione, quindi più di tempo non ne perdiamo mai, né noi né lei lì. Però per se stesso lo dico, non per noi che siamo qui ad ascoltarla. Se è contenuto nei limiti di 5 minuti, allora possiamo soddisfare le esigenze degli avvocati, perché hanno problemi di rienzo. 5 minuti, signor Presidente. Altrimenti, tranquillamente, la prossima odienza può essere più... Si può soffermare. Già, ho finito già. 5 minuti. Va bene. Signor Presidente, mi scusi, l'altro giorno quando io ho fatto quella specie di confronto, più dichiarazione spontanea che confronto, Gangemi, sempre al solito e sempre ogni processo aumenta sempre le accuse, ha parlato del processo, cioè della strage di Chinnici, che tu sei riunito con gli altri in una riunione. Io la pregherei, signor Presidente, nel procedimento 2997 del Caltanissetta, Borsellino, di vedere se era la possibilità di leggere quello che ha dichiarato Gangemi, cioè che lui mi accompagnò in questa riunione, che poi io non ho mai accompagnato a nessuno, va bene, mettiamo che mi accompagnò lì. E poi dice, io non so di che cosa hanno parlato, poi se ne siamo scesi, signora Prego, se può lei leggere, avere e poter leggere questa dichiarazione che ha fatto nel processo Borsellino, quando è stato esaminato Gangemi e Salvatore. Procedimento 2997, terza sezione. Quando è stato esaminato... Porte di Assini. Aspetta un altro, quando è stato esaminato, non ho sentito bene. Esaminato. Gangemi. Quando è stato esaminato Gangemi, nel processo Borsellino. Sì, chiaro, chiaro. Nella corte di Assisi, terza sezione. Poi mi ha accusato, e poi ti deve ricordare che abbiamo ucciso assieme i figli di Buscetta. Ora, io quel giorno non ho continuato più a chiarire questo particolare, questa accusa, per dimostrare anche per le Repubblici Popolari, che mi ha dato quell'impressione chissà di che cosa. Io, di quegli omicidi sono scomparse, di figli di Buscetta, io sono stato... Questa è la prima volta che sento dire che ho avuto queste accuse di Gangemi, non ho mai in altri processi. Ma io, nemmeno che questo processo, quello famoso, sono stato assolto. Eravamo noi o solo, tutta la commissione, diceva allora, si diceva, che erano responsabili di tutti gli omicidi, e c'erano compreso questi figli di Buscetta. Io sono stato assolto di quegli omicidi. Ecco, sebbene che la corte lo sappia. Nel Max processo assolto definitivamente. Ebbene che la corte lo sappia. Ora, signor Presidente, un'altra cosa sola, c'è stato un giornalista proprio irresponsabile del giornale di Sicilia, che ho letto l'articolo, che ha scritto sul mio intervento, sulle mie dichiarazioni o confronto che ho fatto con Gangemi. Bene, ha detto che io ho accusato Rina di tutti gli omicidi eccellenti, compreso la strage. Io non so come mi posso chiarire questa cosa, ma è bene che lei lo sappia, signor Presidente. Io non ho detto che Rina è il responsabile, ho detto a Gangemi, tu mi fai dire se la commissione ha deciso quegli omicidi. Non ho detto che è il responsabile Rina. Poi ho detto, voi avete detto che è stato Rina a fare quella strage. Io non lo posso sapere perché ero in carcere. Però, allora, se è stato lui, perché tu non hai contribuito a dire, signor Rina, guardi che io, Calò, ha un processo a Firenze, in Cassazione, per evitare che si poteva evitare quella strage. Poi ho detto che qualcuno mi mandava a dire qualcosa in carcere, ho detto, guardi, questo è un pazzo, si merda solo essere ucciso. Ma io non è che ho detto Rina è il responsabile di tutti, sono loro che dicono che è il responsabile di tutti. Ma io mi appoggio a quello che dicono loro, dico, tu dici così, allora perché non hai intervenuto a non fare succedere questo strage? Questo punto lo volevo chiarire, signor Presidente. Per questo giornalista, questo giornalista proprio incompetente, e devo dire, non lo so come lo devo definire, sono irresponsabile davvero. E allora, signor Presidente, io sicuramente, sicuramente, mi scusi, io ho finito, sicuramente quando finiscono i collaboratori, io devo fare un'altra dichiarazione spontanea. Va bene, basta che lei ce lo fa sapere. Comunque, per il giornalista, lei si può valere della rettifica a mezzo stampa, lei come qualunque cittadino al mondo, può scrivere una notizia, una sua dichiarazione al giornale chiedendo la rettifica e basandosi proprio sui verbali che ci sono, agli atti, tanto è tutto registrato. E poi esprimere quello che è il suo pensiero e dire, se il giornalista ha detto qualcosa di errato, dice guardate che anche questo è documentabile attraverso le registrazioni. Infatti, io sto scrivendo una lettera al direttore dell'Unione di Sicilia, sto scrivendo una lettera. Va bene, buongiorno, buongiorno. Allora, concludo con un buongiorno a tutti, alla prossima di Enzo. Allora, concludo con un buongiorno.